Sono Pietro Menga, presidente della Cives, Commissione Italiana di Veicoli Elettrici. Intanto mi voglio complimentare con questa iniziativa che assolve uno dei compiti più importanti di questa fase, cioè la visibilità del veicolo elettrico. L'industria ha sviluppato dei prodotti, sono pronti per essere introdotti su un mercato, però ben poco si fa, soprattutto la gente, la gente normale come tutti quanti noi, ne sa molto poco e di conseguenza non è da una parte motivata perché non sa, dall'altra non è motivata semplicemente perché manca di elementi fondamentali che devono essere costruiti nel tempo, un'infrastruttura di ricarica, un sostegno economico, un'incentivazione iniziale, delle buone regole che in qualche modo privilegino i volontari che vogliono rompere il ghiaccio su questo tema. Tutto questo sicuramente correntemente contribuisce molto bene, quindi voglio complimentarmi e esprimere veramente la speranza che tutto questo possa proseguire ancora, magari a un livello europeo, magari a un livello di un percorso che parta dal nord Europa e arrivi fino alle soglie dell'Africa, se vogliamo.